Io sto per andare a prendere del cibo al negozio, vuoi venire? Perché quell'aspetto? Non sono affari tuoi, ragazzo, ma ti accompagnerò nel tuo viaggio. Tieni. Questo pugnale me lo diede tua madre quando era ancora viva. Usalo saggiamente quando partiremo per il viaggio. Assicurati anche di prendere questo arco. Spero tu sappia cacciare, ragazzo. Tieni. Assicurati di indossare questo. Potrebbe far molto freddo fuori. Non voglio che ti ammali. Davvero? Cos'è tutto questo? Quale viaggio? Dobbiamo solo prendere del cibo. Non ti metti la cintura? No. Va bene, come vuoi tu. Cosa mangiamo però? Hamburger. Dove andiamo? Nella direzione degli hamburger. E questo come mi aiuta? Tieni. Dove stai andando, ragazzo? Ragazzo! Ragazzo, vieni a darmi una mano. Cosa stiamo facendo qui fuori? Tagliamo la legna. Ah sì? Ragazzo, guarda cosa può fare l'ascia del Leviatano. Davvero? Davvero? Ragazzo, guarda cosa può fare l'ascia del Leviatano. Ragazzo, guarda cosa può fare l'ascia del Leviatano. Ragazzo, guarda cosa può fare l'ascia del Leviatano.